Ciao, sono Enea, principe troiano e figlio di Anchise e della Dea Venere. La mia storia inizia con la caduta della grande città di Troia, una delle tragedie più devastanti della mia vita. Dopo dieci anni di guerra contro i Greci, Troia fu presa con l'inganno del cavallo di legno e io fui tra coloro che combatterono fino all'ultimo per difendere la mia patria. Quando capii che tutto era perduto, ricevetti un segnale dagli dèi. Mia madre Venere mi apparve e mi disse che dovevo fuggire per fondare una nuova patria. Così, con mio padre Anchise sulle spalle e mio figlio Ascanio al mio fianco, guidai un gruppo di sopravvissuti fuori dalle rovine in fiamme. Mia moglie Creusa, purtroppo, non riuscì a seguire il nostro passo e la persi tra le strade caotiche della città. Più tardi il suo spirito mi apparve e mi confortò, dicendomi di non disperare e di proseguire il mio destino. Dopo aver lasciato Troia, ci imbarcammo per un lungo e pericoloso viaggio attraverso il Mediterraneo, cercando il luogo dove avremmo potuto fondare una nuova città. Abbiamo visitato molte terre e subito molte avversità, guidati dai segni divini e dalla speranza di un futuro migliore. Tra le avventure vi furono incontri con il ciclope Polifemo, terribili tempeste scatenate da Giunone, la regina degli dèi, che era nostra nemica. Giungemmo infine a Cartagine, dove fui accolto dalla regina Didone. Lì trovammo pace e rifugio per un po'. Didone ed io ci innamorammo, ma non era il mio destino rimanere con lei. Gli dèi mi ricordarono la mia missione di fondare una nuova Troia in Italia, così dovetti lasciare Cartagine e Didone, che si tolse la vita per il dolore. Questo addio doloroso mi perseguita ancora. Riprendemmo il viaggio e, infine, arrivammo alle coste italiane. Qui mi aspettavano nuove sfide. Dovevo stabilire una nuova patria e questo portò a conflitti con i popoli locali. L'ultimo e più grande ostacolo fu la guerra contro Turno, re dei Rutuli, che si opponeva alla mia unione con Lavinia, figlia del re latino. Con l'aiuto degli dèi e dei miei compagni, sconfissi Turno e fondai Lavinio, la città che avrebbe dato inizio alla grandezza di Roma. La mia storia è una saga di perdita e speranza, di dovere e sacrificio. Ho visto crollare la mia patria e ho dovuto costruirne una nuova, affrontando pericoli e dolori inimmaginabili. Ma ho sempre seguito il volere degli dèi e il destino che mi era stato assegnato, convinto che un giorno la mia discendenza avrebbe portato alla nascita di un impero grande e potente. Grazie infinite per aver seguito il nostro video dedicato alla straordinaria storia di Enea, narrata dal suo punto di vista. Questo viaggio epico, dalle rovine di Troia fino alle rive del Lazio, non è solo un racconto di avventure e battaglie, ma un profondo viaggio interiore di un uomo destinato a fondare una nuova civiltà. Abbiamo esplorato le sfide che Enea ha dovuto affrontare, non solo come guerriero, ma come leader, figlio e padre, portatore del destino di un'intera gente. Enea non è solo un eroe mitologico, è un simbolo universale di resilienza, fede nel destino e capacità di superare l'avversità. La sua determinazione a continuare, nonostante le perdite personali e le difficoltà, rappresenta una lezione preziosa per tutti noi. Le sue vicende con la regina di Done, il viaggio negli inferi e il conflitto finale con Turno, non sono solo episodi di una storia antica, ma riflessioni sulla natura dell'amore, del sacrificio e del dovere. Se avete trovato questo racconto affascinante, vi invitiamo calorosamente a iscrivervi al nostro canale. Il nostro obiettivo è portare alla luce storie avvincenti e approfondite da ogni angolo della mitologia e della storia, permettendovi di immergervi in mondi ricchi di avventure, leggende e conoscenza. Cliccate sulla campanella delle notifiche per restare aggiornati con i nostri nuovi contenuti. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare e esplorare. Inoltre, ci piacerebbe moltissimo sentire la vostra voce. Quali parti della storia di Enea vi hanno colpito di più? C'è qualche episodio o aspetto della sua vita che vi ha particolarmente affascinato? E quali altre storie o figure storiche vi piacerebbe vedere trattate nei nostri video futuri? Lasciateci un commento qui sotto con le vostre riflessioni, domande o suggerimenti. Il vostro feedback è incredibilmente prezioso per noi e ci aiuta a migliorare e a creare contenuti sempre più interessanti e coinvolgenti. Grazie ancora per averci accompagnato in questo viaggio epico. Non vediamo l'ora di continuare a esplorare con voi le infinite storie che il mondo ha da offrire. Restate con noi per altre emozionanti avventure e approfondimenti. A presto e continuate a esplorare il mondo delle storie. Grazie a tutti.